Raúl Bova operato d'urgenza, impegni annullati, come sta adesso? Raúl Bova operato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. L'attore romano ha dovuto annullare i suoi impegni professionali a causa di un problema al ginocchio. Il 52enne aveva già programmato un intervento chirurgico ma si è visto costretto ad anticipare i tempi. Da qui il suo forfe al Magna Grecia Fionfestival quale avrebbe dovuto presenziare. Nelle scorse ore, Raúl Bova è apparso sui social disteso a letto con la gamba fasciata e ha chiesto scusa al pubblico per la mancata partecipazione al festival organizzato a Catanzaro. Raúl Bova operato al ginocchio, non sono in una situazione grave. Un saluto a tutti e un grande abbraccio, spero che stiate bene, ha detto in un video, io purtroppo sono qui a Roma. Mi hanno appena dimesso per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Grecia Fionfestival ma ci sono stati degli imprevisti e quindi l'operazione l'ho dovuta anticipare. Sono molto dispiaciuto. Sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare con voi, a sorridere con voi, con Gianvito Casadonte, il grande organizzatore di questo festival, e a tutto lo staff che lo circonda. Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria, vedere delle cose meravigliose. Non sono in una situazione grave. Ho fatto un'operazione per stare meglio, sarò meglio. Scusate ancora di non essere lì ma purtroppo c'è stato questo piccolo imprevisto. Vi voglio bene, un abbraccio. L'attore era reduce da una mini vacanza con la famiglia. Reduce da una mini vacanza a Mykonos con la sua famiglia, Raúl Bova è rimasto ricoverato all'ospedale Gemelli per due giorni. Al Magna Grecia Film Festival avrebbe dovuto presentare il docufilm La bellezza perduta, Siria e ricevere il prestigioso premio Colonna d'Oro, un riconoscimento per il suo contributo nel mondo del cinema. Raúl Bova è legato sentimentalmente alla conduttrice e attrice spagnola Rocio Muñoz Morales. I due si sono incontrati nel 2012 sul set del film Immaturi. Dalla loro unione sono nate due figlie, Luna e Alma. L'attore romano ha altri due figli, Alessandro Leon e Francesco. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella. Grazie. 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 Grazie.